Fu Paolo Romeo a decidere nel 2002 la candidatura di Giuseppe Scopelliti a sindaco di Reggio Calabria. Non ha dubbi Alberto Sarra durante il suo quarto interrogatorio davanti al PM Giuseppe Lombardo. L'ex sottosegretario passa in rassegna tutte le tornate elettorali più importanti degli ultimi vent'anni, partendo dai primi anni 2000 e chiedendo ai magistrati che il rapporto esistente era quello fra Giuseppe Scopelliti e Nino Fiume e tramite quest'ultimo la Cosca De Stefano. Non le manda a dire Alberto Sarra e dipinge l'ex governatore come uno strumento privilegiato del progetto politico di Paolo Romeo, dal quale subiva condizionamenti. Anche il dirigente del comune di Reggio, Marcello Camera, sarebbe stato poi rilevante espressione amministrativa dell'uomo ritenuto al vertice della cupola massonico-mafiosa. Neppure il senatore Caridi è risparmiato. Per Sarra le parole del pentito Moio collocano in modo corretto i rapporti di Caridi con il vertice della Cosca Tegano. L'ex assessore regionale, fra l'altro, sarebbe stato appoggiato anche dalla Cosca Libri, oltre ad essere vicinissimo ad un altro dei riservati dell'Andrangheta, il cognato di Orazio De Stefano, Franco Chirico. Poi il colpo finale riguardante le elezioni del 2007. Per Sarra, Scopelliti, aveva un obiettivo primario, recuperare il suo uomo di fiducia, Peppe Aiano, al quale affidare turismo e spettacolo. Un settore, che racconta Sarra, permetteva all'ex governatore di entrare in collegamento con Paolo Martino e Lele Mora, il manager delle Star. Rapporti ricostruisce la DDA, nati sotto l'ombrello del potentissimo clan De Stefano. Consolato Minniti, per la CNews 24.